Per iniziare a servire la cena desidero fare un saluto particolare e un benvenuto all'assessore alla provincia regionale di Catania, Ascenzio Maezano. E questa sera si odora con la sua presenza, l'assessore ha fatto un sacrificio per venire, comunque è sempre presente, è sensibile ai problemi degli anziani, quindi facciamo un applauso e diamo veramente un benvenuto. Benvenuto anche agli amici di Enna, la segretaria dell'Associazione Arca, chiediamo il benvenuto e un saluto affettuoso. Noi nell'arco della serata ci sentiremo, per ora vi auguro buon appetito a tutti e un buon divertimento. Grazie. 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 Grazie.